La caravana FLCCGL per l'Italia è arrivata ieri a Nuoro col suo camper in piazza Satta per dibattere con i cittadini e con i diretti interessati di autonomia differenziata nel contesto del dimensionamento scolastico in riferimento al caso specifico della Sardegna. Ma l'autonomia differenziata sarà davvero la panacea di tutti i mali per la scuola sarda? Siamo qua col camper proprio per informare le persone, perché l'aspetto della disinformazione purtroppo è diffusissimo, nel senso che se si chiede cosa si intende per autonomia differenziata le persone non lo sanno. Dunque prima di tutto informare, far capire loro che cos'è l'autonomia differenziata e dove questo governo vuole arrivare con l'autonomia differenziata e perché dobbiamo dire no, quali sarebbero le conseguenze dell'applicazione appunto dell'autonomia differenziata nel caso dell'istruzione, di una regionalizzazione dell'istruzione. Significherebbe avere dei curricoli regionali, vorrebbe dire che anche il personale della scuola verrebbe regionalizzato, stessa cosa vale per i contratti, il che vuol dire che non ci sarebbe più quell'elemento di uguaglianza e di unitarietà che dovrebbe riguardare sia le studentesse e gli studenti, ma anche gli stessi lavoratori di questo comparto. Critica anche l'assessora regionale alla pubblica istruzione, Ilaria Portas. Noi assolutamente ribadiamo la nostra contrarietà assoluta al disegno di legge sull'autonomia differenziata che nel nostro caso darebbe dei risultati ancora peggiori perché avremmo ancora di più degli studenti di serie A e degli studenti di serie B. È chiaro che l'autonomia differenziata riguarda tanti temi, ma nel caso della scuola noi subiremmo tantissimo. Noi già soffriamo del fatto che lo Stato opera in maniera razionalistica e ragioneristica. Noi stiamo già lavorando sia con il confronto e la partecipazione di docenti, dirigenti e sindacati, e poi con un accordo con lo Stato e finalmente poi approdare a questa legge regionale sulla scuola di cui veramente si sente il bisogno.